definita. Una piccola perla che The Millionaire Maker, il fabbricante di milionari, ha ideato nel lontano 1995. Di cosa sto parlando? Dell'unica originale newsletter mensile scritta da Dan Kennedy di suo puglio. Sono arrivati, tradotti per la prima volta in Italia, i principi fondamentali di uno dei più grandi maestri del marketing di tutti i tempi. Non ci sono trucchetti o piccole tecniche che valgono oggi e spariscono domani, ma i principi eterni del marketing. Validi online e offline, attraverso qualsiasi crisi economica e cambio radicale del mercato. Tutti i più grandi formatori di marketing mondiali hanno nella loro libreria volumi e volumi di Dan Kennedy. Lui è l'origine del marketing a risposta diretta. Per un attimo, due anni fa, il mondo del marketing e dell'imprenditoria mondiale ha temuto il peggio, quando le condizioni di salute di Dan sono peggiorate improvvisamente. Ma nel suo perfetto stile cowboy, Dan si è ripreso. È tornato in pista, con la più straordinaria newsletter lui abbia mai creato. L'unica scritta davvero di suo pugno. Per questo Frank Marenda ha deciso che il rischio che abbiamo corso è stato troppo grande per vederlo ripetersi. Il pericolo di perdere i contenuti dell'uomo che ha cambiato le sorti a migliaia di imprenditori ha spinto Frank a portare in Italia la sua newsletter. E tu, oggi, hai la possibilità di averla ad un prezzo straordinario. Infatti, se ti abboni ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon, avrai il volume del mese corrente, un volume in regalo direttamente a casa tua. E mentre li aspetti, potrai già studiarli in formato digitale. Una lezione di Dan Kennedy mai venduta prima, in formato video nella tua area riservata. La prima lezione di The Secret Box, il colloquio fra il genio americano e quello italiano di Frank Marenda. L'università dei milionari, un corso storico in cui il maestro apre il suo dietro le quinte. E Media Buster, un'uscita inedita che ti insegnerà a padroneggiare il mondo delle PR. Tutto questo ad un prezzo irripetibile. Cosa aspetti? Abbonati ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon. Disdici quando vuoi e lo ricevi comodamente a casa tua. Clicca subito il link qui sotto e non perdere l'offerta speciale. Frank Marenda è l'uomo che ha stabilito un record dopo l'altro nella formazione per imprenditori. Autore di best seller come vendere fa schifo se non sai come farlo, le sette leggi del marketing per il ventunesimo secolo e 50 colpi di Frank. Creatore del Merenda Monthly, l'unico mensile dedicato agli imprenditori. Migliaia e migliaia di imprenditori frequentano ogni anno i suoi corsi, rendendolo a tutti gli effetti uno dei più seguiti e pagati formatori in tutto il mondo. Ha testato le sue conoscenze in centinaia di settori e con migliaia di aziende. Ha lavorato fianco a fianco con diverse leggende del marketing mondiale. Ha letteralmente cambiato il tessuto imprenditoriale, portando nelle sue aule imprenditori da tutto il mondo. È arrivato a riempire un palazzetto dello sport con 5136 persone, pronte a studiare e cambiare le loro attività. Ha costruito in Svizzera il primo e unico centro studi per imprenditori in Europa. Tutto questo è Frank Merenda. E in questo canale di YouTube hai la possibilità di seguire in modo completamente gratuito le sue lezioni. Iscriviti ora per non perdere nemmeno un video. Buonasera, bentornati a tutti ad altrimenti merendiamo la televisione degli imprenditori arrabbiati, anzi incazzatissimi e oggi ci occupiamo insieme di rispondere a tutta una serie di domande, quesiti, dubbi, perplessità che sono legati a che cacchio devo fare alla fine con sto marketing perché forse non l'ho ben capito perché mi arrivano informazioni da tutte le parti, ci sono centomila cose da fare e io non capisco mai se devo fare questo o devo fare quell'altro. Parleremo finalmente di TikTok, ok? TikTok come cacchio si chiama, così siete contenti, vi spiego quando e come dovete usarlo e se per caso dovete usarlo eccetera eccetera. E quindi a parte gli scherzi, anzi quello che voglio fare è fare con voi una vera e propria lezione, lezione non in senso noioso del termine, ma una lezione proprio da la A alla Z per spiegarvi in maniera iper semplificata ovviamente, ma vedrete che per quanto io possa semplificare in realtà le cose sono, prima diventano un pochino complesse prima di semplificarsi, che cosa dovete fare quando dovete cominciare a creare le vostre campagne di marketing a prescindere dal settore, a prescindere da dove siete, a prescindere da quanto fatturate, non è interessante. Valgono gli stessi principi con un minimo di adattamento e vedremo quando ci sarà da farlo, ve lo dirò, ma nella media l'ordine logico e cronologico in termini di importanza per fare le nostre campagne di marketing esiste ed è a forma di piramide, quindi questa sera vi farò vedere le piramidi che ispirano il nostro lavoro in marketing merenda ed è anche il nostro modo di creare non solo le nostre campagne ma quando per esempio creiamo le campagne per i nostri studenti direttamente, ok? facciamo esattamente queste cose, quindi a voi che cosa serve? Serve ragazzi avere una guida molto chiara, molto precisa per poter partire a fare le cose in maniera corretta, non buttare tempo, non buttare denaro, ma soprattutto difendervi da tutta quella gente che c'è là fuori, alla quale magari voi vi rivolgete, che vi fa magari delle proposte che non sono corrette o sono stupide o semplicemente vi propongono di fare delle cose semplicemente perché sono le uniche cose che loro sanno fare, in teoria, poi magari le fanno anche male, ma il punto è che voi dovete essere in grado di difendervi anche dai fornitori, quindi dovete sapere esattamente che cosa fare prima, che cosa fare dopo, che cosa è necessario per voi, che cosa non è necessario per voi, eccetera, 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 ok? Quindi, in realtà, partiamo dal punto zero, ok? Quindi diciamo, c'è tutta questa confusione, Google, Facebook, i social, un quell'altro, TikTok, Instagram, una cosa e l'altra, da dove devo partire, quello ha detto che devo fare TikTok, quello mi ha detto che devo fare i libri, quello mi ha detto che... Allora, faccio un brevissimo inciso così ci capiamo. L'inciso che voglio fare, ragazzi, ed è una cosa che è un mio mantra che io ripeto sempre, ricordatevi che le persone stupide esistono e cercano in realtà il pulsante magico o la soluzione magica o la bacchetta magica, ok? Schiaccio qui e mi arrivano i clienti, chiedo alla web agency che mi mandi i clienti e mi arrivano i clienti, senza che io debba fare niente. Le persone stupide tendono a rifiutare, rigettare, voler evitare o avere paura contemporaneamente della complessità. Le persone in gamba, le persone intelligenti, le persone di successo, invece, abbracciano la complessità con gioia. Cioè, nel senso, quando io vi mostrerò oggi come si costruisce, come se fossimo all'università da zero, cioè vi spiego come funziona, come qualunque azienda dovrebbe fare veramente una campagna di marketing, vedrete che è abbastanza complesso. Le persone intelligenti abbracciano la complessità perché dicono, cavolo, se io mi metto a fare finalmente queste cose e entro all'interno di questo sistema che apparentemente è complesso, ma più poi lo lavoro, più in realtà per me diventa semplice, più ho la possibilità di fare un'enorme differenza rispetto a tutti gli altri. Quindi ho la possibilità di vincere sul mercato abbracciando la complessità, rendendo la complessità semplice semplicemente a forza di lavorarci. Questo, ragazzi, è. Quindi voi venite fregati costantemente quando ricercate la la semplificazione eccessiva, ok, e il delegare le cose, il non voler capire, il cercare la bacchetta, io vorrei solo che mi arrivassero i clienti, e sta roba vi porta a essere fregati, a buttare i soldi, eccetera, eccetera, a buttare tempo, a buttare denaro. Le persone intelligenti abbracciano la complessità, abbracciano il ragionamento, abbracciano la deduzione, abbracciano la comprensione dei sistemi complessi per la gioia di renderli semplici, che è quello che faremo noi questa sera. Io questa sera già vi darò una versione molto semplificata di quello che in realtà è veramente, ma è già tantissimo, ok, rispetto a quello che voi siete abituati a vedere, perché altrimenti vi confondo troppo le idee come lezione iniziale tendenzialmente su questo argomento. Allora, vediamo un po', da dove devo partire, ok, quindi da dove si parte, cosa devo fare, e qual è la prima cosa che devo fare, quindi siamo a zero. Allora, vediamo se riesco a, se mi ricordo ancora come funziona questo zavaglio qua. Ok, perfetto, ci siamo. Allora, primissima cosa che devo fare, quindi primissimo strumento senza ombra di discussione e non voglio sentire discussioni a riguardo, è Google. Google, in questo caso, è alla base della nostra piramide ed è il primo pilastro della nostra piramide, il primo in assoluto. Qui di Google, sto dicendo Google per intendere il sistema di Google SEO, tendenzialmente, cioè il fatto di farsi trovare dal motore di ricerca quando le persone cercano qualcosa che è diviso tra gratis e a pagamento. Gratis è se io sono bravo con i miei contenuti, i miei siti, tra virgolette, a rancare, si dice, quindi a scalare i motori di ricerca e ad arrivare primo su Google per le parole chiave che in realtà siano rilevanti rispetto ai miei prodotti, i miei servizi. Stessa cosa, pagamento, cioè quelle posizioni, se io non sono in grado o comunque ci sto lavorando ma ci metterò molto tempo per raggiungere eventualmente, e comunque non è un dato controllabile, le prime posizioni per le parole chiave che sono fondamentali per me, posso comprarle. Cioè, Google mi permette di pagare, si chiama pagare, la pubblicità su Google significa pagare per poter essere primo in alto su Google a pagamento, ok? Quindi questa cosa si può fare ed è la base del nostro lavoro. Perché Google è il primo e il più importante dei nostri pilastri? Per un motivo molto semplice, perché su Google dal punto di vista della SEO, quindi della ricerca, esiste la, e sono i clienti migliori possibili, cioè esiste la ricerca attiva, cioè esistono le persone che non è che stanno cazzeggiando, come su Facebook, no, c'è la gente che cazzeggia e io gli compaio davanti con il mio annuncio, questa è un'altra cosa, vedremo dopo. Qui c'è della gente, ragazzi, che va sui, si mette sul suo iPhone, sul suo cellulare, su quello che è, o sul Mac a casa, sul PC, eccetera, eccetera, e sta cercando attivamente informazioni sul vostro prodotto o sul vostro servizio. Vorrei, addirittura qualcuno, manifesta proprio le intenzioni di acquisto, vorrei comprare il vostro prodotto o il vostro servizio. Quindi non c'è nessun motivo per lasciare la concorrenza a questi clienti che stanno cercando attivamente di comprare i miei prodotti, i miei servizi. Allora, Google, che dovrebbe essere, ed è in realtà, la base di qualunque campagna di marketing, non lo è, perché se io vengo a vedere, la maggior parte di voi non è attiva su Google, non è attiva in una maniera decente, per tutta una serie di motivi, perché voi vi rivolgete alle web agency, lavorare su Google è più complesso tecnicamente, diventa sempre più complesso rispetto a uno junior in cinque giorni o a destra per fare una campagna idiota su Facebook, interessi, raggio d'azione, mia città, clicco e faccio, ve la potreste pure fare da sola, quella cazzo di campagna così idiota, su Facebook, quindi le campagne su Google vi dicono no, non si può fare, nel tuo caso, le balle che vi dicono costa troppo, non ci sono ricerche per le tue parole chiave, eccetera, eccetera, queste sono più o meno le più famose, sappiate che sono tutte balle, sono balle dette da completi incompetenti, non voglio dire truffatori, perché potete dire, ma sono persone incompetenti che cercano di portare l'acqua al loro mulino e portarvi verso normalmente i social dove con più facilità, in teoria riescono a portarvi click, views, eccetera, eccetera, che però non servono a niente perché non si trasformano, quindi spendete soldi, ma poi questi soldi non vi rientrano. Google è lo strumento nel quale metti i soldini e se sei bravo, i soldini rientrano indietro. Allora, dov'è il problema in realtà su Google? Allora, si spende troppo? No, non è vero, è perché tu non sai ricercare in realtà la lista delle keyword adatte per te, per il tuo budget per cominciare ad investire ed è possibile farlo. Adesso lo faccio vedere perché chiamerò fra un attimo Moreno per farvi vedere una cosa perché ve la voglio far vedere, se no se non la vedete in mano non la capite. L'altro passaggio è, ma non ci sono le parole, la gente non sta cercando il mio prodotto. Allora, dovete capire che anche questa cosa è una balla, nel senso che tutti i giorni mi fanno delle domande anche sui soldi, ma voi quando fate le ricerche, l'ultima direi, ma cosa cercate? Dalle 20 alle 40 parole chiave? No, noi cerchiamo dalle 20 alle 40 mila parole chiave e adesso vi faccio vedere come funziona. Perché? In maniera ipersemplificata. Perché quello che fate voi o che cerca di fare la vostra web agency stupida con degli junior ignoranti è cercare nome del vostro prodotto, punto. Le parole chiave ci saranno, boh, quante sono? 10, 20 parole? Quante ce ne possono essere lì intorno? Quindi quando hai trovato quelle decine di parole nella tua testa hai finito. E quindi se vedi che stranamente sulla keyword secca costa troppo oppure non ci sono ricerche sufficienti nella tua zona perché è piccola, questi se ne alzano con Google non si può fare. In realtà Google si basa, non sulla ricerca, vendo bicchieri e cerco solo quelli che stanno cercando la parola bicchieri. Non funziona così, ragazzi, perché se no è inutile che parliamo di marketing. Ma si basa innanzitutto sulla comprensione, questa è una cosa abbastanza sofisticata, dei livelli di consapevolezza, per esempio. Innanzitutto, il punto numero uno, quindi dovrò cercare le persone e quindi scrivere dei contenuti. C'erano delle persone, per esempio, se ho un'azienda, un minimo famosa, che mi cerca per brand. Io ho delle persone che mi cercano per Frank Merenda, Metodo Merenda, Venditore Vincente, quindi cercano direttamente i miei brand e quindi posso comparire per i miei brand. Magari voi siete molto piccoli, siete nuovi, non ce li avete. Poi ci sono le persone che sono consapevoli, per esempio, del prodotto. Quindi stanno ricercando un prodotto, quindi il nome generico del prodotto, ma non il vostro brand. Lo stanno cercando genericamente perché non sanno chi offre in realtà. Oppure stanno cercando dei preventivi, o stanno cercando di confrontare i vari fornitori che possono esserci. Questo è quello che succede. Quindi, per prodotto. Oppure ci sono persone che non sono consapevoli del prodotto da utilizzare, ma stanno cercando una soluzione. Si chiamano coloro che sono consapevoli della soluzione. Quindi tu devi trovare le giuste keyword per queste persone su Google e devi creare dei contenuti specifici per creare degli annunci specifici per queste persone che finiscano su landing specifica. Quindi sono annunci, copy e landing specifici, specifici, scusate, sono diventando dislessico, forse abitare all'estero, specifici per ricerche sul brand. Annunci, copy e landing specifiche per ricerche sul prodotto. Annunci, copy e ricerche specifiche per ricerche sulla soluzione. Annunci e copy e ricerche specifiche per il livello successivo, che sono persone che sono consapevoli solo del problema, ma sono ancora in alto mare, sono confuse. E poi annunci, copy e landing specifiche per coloro i quali in realtà non sono consapevoli nemmeno del problema. Quindi si chiamano targeting consapevole e vanno stimolate. Capite ragazzi quante varie... Cioè io ho detto Google e avete già capito semplicemente quante variabili esistono da questo punto di vista. Quindi fa la campagna su Google. La campagna su Google non è nome del vostro prodotto, attivo la campagna, ok, cercando le keyword fondamentali, fondamentali e va con i dieci keyword. Non è niente ragazzi, dovete creare contenuti, abbracciare la complessità, annunci completamente diversi per i livelli di consapevolezza, copy completamente diverso per i livelli di consapevolezza, landing completamente diverso per i livelli di consapevolezza. Cioè la campagna su Google funziona. È chiaro che non ve la sa fare nessuno, costa un casino, i contenuti li dovreste dare voi, ma sti cazzi c'è il ristorante, interesse cucina, interesse mangiare 50 chilometri dal tuo raggio di azione. Clic, campagna su Facebook e vanno inculati i soldi. E grazie a cazzo, e so anch'io fare le aziende così, prendo gli junior dalla strada e in cinque giorni gli insegno a fare sta stronzata, a fare le campagne su Facebook. Se volete continuare a farvi fregare i soldi, ragazzi continuate così e poi direi che non funziona. Ragazzi, cioè se vi rivolgete ai truffatori, che fino a ieri giocavano a scopone, stiamo parlando di niente. Non è nemmeno finita qua, non la voglio rendere complessa, ma c'è un mondo, nel senso che, almeno a livello successivo, certamente ci sono, per esempio, tutte le keyword legate, per esempio, ai tuoi prodotti e ai tuoi concorrenti diretti. In realtà, quindi vanno presi tutti i tuoi concorrenti diretti e rifatto lo stesso lavoro, in realtà, di analisi su di loro per vedere se li stanno cercando direttamente, indirettamente, li stanno cercando per brand, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle keyword che devono essere lavorate sapendo che io devo andare su Google, cercando di sottrarre clienti, per esempio, i miei concorrenti diretti. E poi, ulteriormente, c'è un ulteriore livello nel quale io vado a cercare le keyword di coloro che sono i miei concorrenti indiretti. Cioè, chi sono i concorrenti indiretti? Per fare un minimo inciso tecnico per chi si è collegato oggi a me per la prima volta. I concorrenti indiretti sono coloro che non vendono il mio stesso prodotto, ma vendono qualcosa, un prodotto, un servizio che risolve lo stesso problema, ma con un prodotto o un servizio diverso. Quindi, per fare un esempio scemo, dove ci capiamo. Il bar, certo che io se faccio una campagna per il bar, ho la concorrenza, in realtà, probabilmente degli altri bar. È vero, ok? Ma ho anche la concorrenza delle capsuline dell'Anne Espresso, a casa. Ho la concorrenza della macchinetta della Illy, sempre a casa. Oppure ho la concorrenza, che ne so, del caffè in moca. Cioè, sono tutti competitor indiretti, non sono competitor diretti del bar, ma combattono per gli stessi soldi, per risolvere lo stesso problema. Giusto per fare un esempio shock. E questo esiste in ognuno dei vostri settori. Il vostro più grande software complesso che voi avete, geniale, eccetera, eccetera, normalmente ha come competitor altri software, magari multinazionali, aziendine piccole come la vostra, ma poi c'ha Excel, e poi c'ha i fogli di carta, i faldoni scritti a mano da qualche parte. Capite, ragazzi, il concetto di competitor indiretti? Ma io devo andare su Google, perché quei clienti, con il giusto copy, i giusti annunci, la giusta offerta, la giusta motivazione, li voglio portare nella mia direzione. Quindi, questo è solo per farvi capire, e siamo al punto numero uno, il livello di complessità che esiste dietro questa macchina meravigliosa, che è Google. Ok? Questo è il lavoro fondamentale. Allora, adesso volevo, noi, quando facciamo questa cosa, ragazzi, produciamo, per esempio, per i nostri studenti, un'analisi, quella che si chiama un'analisi di mercato, si chiama Market Discovery, ma è un'indagine, e contemporaneamente un'indagine, un'analisi di mercato, sul proprio mercato, su quello dei concorrenti, eccetera, eccetera. Nella media, e adesso chiamo Moreno, ve la faccio vedere, prima di partire a pensare di fare una campagna, da noi esce un report, scritto fitto, no? A pagine bianche, cazzo. Ok? Scritto fitto, vi farò vedere, chiedo a Moreno dopo, se apre anche l'interno, vi voglio far vedere, non è una truffa. Ok? Dalle 350 alle 400 pagine di media, a seconda che abbiate un'azienda, ok? in una zona più grande, campi semantici diversi, eccetera, eccetera, ma nella media, sono dalle 350 alle 400 pagine di report, per cominciare a fare le prime campagne. Questo non ti dice, come si fa la campagna su Google, ma ti dà, in realtà, il tuo piano, perché le campagne, partirai dalla prima, e poi nel tempo, avrai la Bibbia per costruire tutte le altre, attaccate nel tempo. Tu volessi fare anche solo Google, c'hai da lavorare, cazzo, per dieci anni a fare tutte le campagne, come noi, ok? Cioè, nel senso, anche volendo solo stare, su Google, se tu sei bravino, no bravo, bravino, hai da lavorare all'infinito, quindi non esiste la campagna su Google, esiste la Bibbia su Google, ok? E poi c'è il resto. Adesso, se c'è Moreno che si riesce a connettere, magari lo salutiamo. Eccolo! Oh, dottore, salve! Buon suore! Buon suore! Aspetti che la metto più in rilievo, perché mi sembra un po' sacrificato, ho messo lì qua. Esatto, la vediamo meglio. Ok. Ok. Stavo parlando del tuo lavoro, in realtà, se stavi seguendo, che è Google, chiaramente, da questo punto di vista, e se puoi farci un'introduzione, mostrare e spiegare che cos'è la nostra indagine di mercato, che poi diventa il book della Market Discovery. Certo, ora, giusto per darvi, qui ne ho un po', un po' delle ultime fatte. La Market Discovery, poi, si trasforma praticamente in questo libro che, come diceva Frank, è pieno di parole chiave, inizialmente, e come funziona. la prima parte, giusto per farvi vedere, c'è l'indice, ok, dove vediamo tutti gli argomenti. Come diceva Frank, andiamo sulla base dei livelli di consapevolezza, perché ci sono casi in cui ci sono ricerche dirette, ci sono casi in cui le ricerche dirette, come oggi abbiamo fatto delle mastermind, costavano 7 euro a click, per cui, in realtà, però abbiamo visto come, andando leggermente indietro e cercando delle parole un po' più lunghe, io faccio sempre l'esempio che si capisce facile, no, ai kick-off. Io sono toscano, ho lavorato con le strutture ricettive, un conto è, clicco e sono primo per agriturismo a Firenze, 5 euro a click. Un conto è, ho una struttura, magari, che ha una piscinetta, mi sono organizzato per ospitare i bambini, le persone cercano agriturismo con piscina per bambini vicino a Firenze. Quanto costa? 60 centesimi. Quante ricerche ha? Abbastanza per riempire i cinque appartamenti dell'agriturismo. Quindi, il concetto è, bisogna azionare la testa da questo punto di vista. E, come diceva Frenchio prima, non farsi fuorviare da è, ma la keyword principale costa un milione. Ci sono milioni di parole, basta sapere, capire qual è il dialogo mentale del potenziale cliente e ci si va intorno. E questo è il primo bel pezzo del tomo, perché ogni argomento poi viene esploso, noi diamo anche delle indicazioni dicendo quali sono le parole chiave che a noi hanno risonato di più, perché questo viene fatto ovviamente con un'intervista preliminare, poi si fa questo lavoro e poi dopo lo si condivide, e quindi c'è questa lista. Non ci fermiamo neanche lì, come diceva Frenk, perché ora ancora non ne ha parlato, però c'è tutta l'altra parte di Google che è come si intercetta la domanda latente, che in realtà tutti pensano solo a Facebook, l'ha inventato Google questo giochino, perché io sono anziano, ho iniziato a lavorare quando Google non c'era, Facebook, figuriamoci, l'hanno inventato loro, quindi Google sa dove siete, dove andate, perché cercate Google Maps, cosa cercate, quali sono i siti che visitate. Quindi, se lui, chiediamo a lui di ricostruire le informazioni su chi è il vostro potenziale cliente, lo troviamo molto più facile perché qualcuno esce l'immagine nuova della Ferrari, un modello nuovo, tutti i maschietti, ma non mi piace, non vuol dire che ve ne potete comprare due la prossima settimana, quindi io mi piacerebbe, ma non posso. Google in realtà sa che tipi di R prendete, che linee prendete, se siamo fuori dall'Italia, che tipo di carte di credito usate, che app avete installato nel cellulare, quindi si può ricostruire un avatar cliente, cioè andare a cercarsi i nostri. Dopo approfondiamo, Moreno, questa parte qua, perché dopo ne parliamo, giustamente, quindi ti richiamo quando parliamo della parte display perché è importante parlare di questa cosa. Esatto. La prima parte fondamentale sulla search è questa, cioè è il libro. La cosa fondamentale, come ha detto Frank prima, è ragioniamo, come ragione cliente, ci sono vari livelli di consapevolezza e è un libro perché bisogna dedicare tempo alle parole che utilizzano queste persone. Ok? Questa è una cosa fondamentale. Ottimo. Quindi chiudiamo momentaneamente la prima metà di Google, ok? E andiamo avanti con il resto. In realtà, qui ci richiamo. A dopo. A dopo. Allora, vediamo, torniamo da noi, ok? Quindi eravamo qua ragazzi, quindi Google, avete visto, c'è tutta questa prima parte. Senza Google è inutile che vi mettiate a fare campagne. Se non avete fatto questo tipo di lavoro su Google, tutto il resto è... Manca la base, cioè la base è questa, poi sul resto discutiamo. Rimaniamo comunque sul pilastro delle basi, ok? Perché vi faccio vedere quali sono le prime cose. Allora, il primo è Google. Dal lavoro svolto su Google, in realtà, quindi da quel lavoro che ha fatto Moreno, che vi ha fatto vedere, in realtà, che si usa su Google, la stessa cosa viene utilizzata per utilizzare il secondo motore di ricerca più importante del mondo che è YouTube. Cioè, finito il lavoro su Google, esiste YouTube. YouTube è esattamente un motore di ricerca ancora più importante da un certo punto di vista di Google, perché su Google le persone cercano informazioni da un certo punto di vista, su YouTube invece le persone vanno a cercare addirittura dei tutorial, ok? dei video, quindi come fare, quindi vanno a cercare delle spiegazioni possibilmente ancora più articolate. E YouTube è diventato il secondo motore di ricerca più importante del mondo e su YouTube è la stessa cosa. Puoi lavorare di SEO, cioè per rancare per le tue parole chiave, eccetera, eccetera, o puoi fare all'interno le campagne e anche in questo caso specifico, esattamente, puoi fare le campagne con lo stesso livello, scusate, con gli stessi livelli di consapevolezza che stavamo parlando perché è un motore di ricerca, esattamente come Google. Quindi il lavoro su Google lo puoi rispecchiare, lo fai uguale, ok? Ovviamente devi produrre i contenuti specifici, devi fare la roba specifica, devi fare contenuti specifici, devi fare gli ads specifici, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi di bacchette magiche, ragazzi, non ce n'è, non ce n'è, ma ragazzi, è come se uno volesse andare, cioè perché voi, scusate, qualunque professione, cioè si sa che non esiste, nessuno dice io vorrei la bacchetta magica per diventare cardiochirurgo o vorrei la bacchetta magica per diventare avvocato. Lo sai che devi studiare almeno cinque anni, no? Per dire, poi devi fare tutte le prove, eccetera, eccetera, lo sai, no? Per diventare ingegnere, cioè qualunque, dovrai studiare, no? Quattro o cinque anni. E perché voi, in una cosa importante come il fare azienda che è il motore della vostra vita, cercate la bacchetta magica, vado da un che mi dai clienti? Non è possibile questa cosa. Cioè perché non ci arrivate col cervello? Cioè perché cercate sempre la truffa? Perché cercate sempre quello che vi racconta del funnel miracoloso? Non esiste il funnel miracoloso, non esiste il lancio miracoloso, non esiste la campagna miracolosa, esiste un insieme di strumenti che un pezzettino alla volta costruiti, perché è una piramide, quindi si costruisce partendo dalle basi e salire, nel tempo creeranno la vostra corazzata indistruttibile. Perché volete farvi fare? Cioè perché il vostro cervello non vi permette di fare questa connessione basilare che è una professione? Quindi come studiare a marca di un'università, se lo insegnassi io, ci vogliono cinque anni, ok? Finisci che sei capace, hai fatto in tempo a fare tutte le campagne che ti servivano, eccetera, eccetera, che non significa che già dalle prime campagne fatte bene, tu non possa cominciare a crescere, ma per creare, per esempio, il livello di azienda che abbiamo creato noi, ci abbiamo messo anni a creare tutte le campagne, le 600 landing page che abbiamo in giro, le migliaia di annunci, cioè ci vuole tempo, non c'è, ragazzi, il funnel miracoloso, l'annuncio miracoloso, che non esiste. Dovete fare azienda nel tempo, i vostri asset sono la collezione di strumenti che sapete far funzionare. Quindi il primo è Google, fondamentale alla base, l'altro è YouTube. Vado al terzo, perché se no questa lezione dura giorni, ok, ed è, vale per tutti, ok, perché nel senso coloro i quali cominciano a fare le campagne su Google e YouTube cominciano a raccogliere i dati di contatto dei clienti, ma anche in particolare vale per coloro che lavorano, per esempio, nel B2B, quindi lavorano con aziende o professionisti e sanno dove sono. Allora, la prima cosa, in realtà, è dotarsi dei materiali cartacei e dotarsi dei pacconi e dotarsi delle newsletter e dotarsi dei magazine, dotarsi delle sales letter, delle cartoline, di tutto quello che vi ho insegnato nel corso degli anni è fondamentale. Cioè, tu lavori con le aziende settore industriali, sai dove sono? Le scariche dal service, cominci a mandare la carta, non c'è bisogno di, le cerco su TikTok, mi metto a fare su TikTok, figa, stanno là, gli vuoi mandare un cazzo di pacco? Cioè, non mi sembra difficile da riuscire a spiegare, no, il mio capo ha detto che secondo lui dobbiamo fare TikTok, ma lavori con le parrucchiere, che cazzo devi fare TikTok, che sai dove sono? Mandagli i materiali, mandaci un cazzo di rappresentante al massimo dopo che gli hai mandato il materiale, cioè, cosa devi fare su TikTok? Che non significa che non posso fare TikTok, ma capite da soli, cazzo, che ci sono delle cose da fare in maniera intelligente, in ordine logico e cronologico, cioè, sembra che io sono pazzo, cioè, ma non sono pazzo, ok? Quindi, i tre pilastri fondamentali del vostro marketing sono YouTube, Google, carta. Quindi, Google e YouTube, cominciate a fare le campagne di base, le landing page, fate in modo di creare un mini funnel per acquisire dati di contatto integrali dei clienti con anche l'indirizzo fisico e cominciate a mandargli la carta. Addirittura, se avete, lavorate direttamente nel B2B, potete avvantaggiarvi dei pacconi, delle sales, delle newsletter, di quello che volete, cominciate a mandarle intanto che cominciate a fare le campagne anche su Google e YouTube. Questa è la prima fase, ok? La base del vostro lavoro è questo. Quindi, lavorare su Google, lato motore di ricerca, YouTube, ok? E lavorare con il cartaccio per chiudere il lavoro. Ovviamente, e qui non lo inserisco, ma lo ridiremo più volte, già da questo livello, ragazzi, ci vorrebbe il marketing umano, cioè ci vorrebbe la persona che alza il telefono, poi questi clienti li chiama perché questi clienti non si suicidano da soli, né perché hanno visto un video su YouTube, né perché hanno visto un ad su Google, né perché hanno ricevuto un pacco, cioè serve il venditore attaccato, ok? L'assistente telefono, lo chiamate come volete, serve qualcuno che prende i lead che arrivano in entrata, lavorati del marketing per l'amore del cielo, eccetera, eccetera, ma poi li chiami velocemente, ok? Quindi questo non lo metto nel grafico perché vorrei che fosse scontato. Quindi, è inutile che fate le campagne su qualunque strumento di sto mondo se non avete qualcuno che appena entra il lead in tempo reale alza il telefono e richiama. Io non so come spiegarlo, ok? Vi svelo un segreto, noi lavorando anche per creare queste campagne per i nostri studenti, tante volte ci capita che l'imprenditore, poverino, è preso dalle bombe, eccetera, eccetera, noi gli facciamo la campagna, ma noi per difendersi, io non ti faccio la campagna se non mi permetti di installarti dentro un CRM. Cosa significa? Cioè, il CRM, io voglio avere l'accesso per verificare che, normalmente è keep quello che noi installiamo per avere il controllo perché quando ti arriva quella che si chiama un opportunity, cioè un lead lavorato dal marketing, io voglio vedere, ok, in quanto tempo i tuoi uomini lo richiamano. Quindi quando ogni tanto capita l'imprenditore che si suona, poverino, perché preso dalle bombe lo capisco tutti i giorni lavora, ci richiama indietro, ragazzi, ma come, ma qua, i clienti non arrivano perché, no, ok, noi accendiamo il pannello di guarda, che quello stronzo al quale tu stai pagando soldi per richiamare i clienti, noi gli mandiamo i lead e questo lo richiama dopo una settimana, questi sono tutti bruciati, li richiama dopo dieci giorni, li richiama dopo due settimane, quindi bisogna che vai di là e te lo, perché quello è l'unica cosa che devi fare. Quindi è inutile ragazzi che facciamo le campagne su Google, su YouTube, mandiamo i pacconi, se voi non avete dopo la rete di vendita che lavora questi contatti, quindi non so se vi sto svelando dei segreti di Fatima, ma sappiate che, no, lo so, so un cazzo perché io tutti quelli a cui facciamo le campagne sono lì che se non avessi il CRM dietro mi direbbero no, ma le campagne stranamente appena glielo dici, appena loro fanno il culo a quello che invece che alzare il telefono in tempo reale aspetta tempo, stranamente i lead cominciano a funzionare, i soldi entrano, i contratti si chiudono, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi questa è la prima parte in cui abbiamo parlato in maniera importante di quella che è la domanda attiva, la domanda consapevole, che è quella dove ci sono più soldi attaccati. Ok? Bene. Adesso andiamo al secondo livello della piramide perché cominciamo a intaccare, tra virgolette, quella che è la domanda in realtà quella che voi chiamate la domanda latente, quindi persone che non stanno attivamente cercando qualcosa ma che se io gli comparissi davanti, a voi vengono giustamente in mente i social, ok? Come Facebook, per esempio, che è la base, quello che utilizzate più tutti, se io gli compaio davanti è la mia, è come in televisione, no? Cioè io sto guardando un programma, mi compare la pubblicità e questo è quello che accade sui social. Io sto facendo le mie cose, sto parlando con i miei amici, eccetera, eccetera, sto curiosando per i fatti miei e ogni tanto mi compare la vostra sponsorizzata, ok? Esiste questo tipo di... Non è che lo usiamo, lo stra-usiamo. Il problema è che la prima cosa che a voi viene in mente, storicamente, è Facebook. Oggi c'è la gente che gli è partita la fregola con TikTok addirittura, perché è quello che va di moda, è la buzzword che hanno tutti in testa, eccetera, eccetera, bim, vamo Instagram, dopo li vediamo. In realtà io ve li do in ordine, logico, cronologico, ma vi spiego anche perché. Quindi qual è lo strumento più potente e che converte meglio se sai fare il lavoro che abbiamo detto prima, eccetera, eccetera, di tutti gli altri sulla domanda latente. Lo strumento è sempre, in realtà, Google. Nel sistema che noi chiamiamo Google... Noi non lo chiamiamo, si chiama così, noi lo chiamiamo noi. Si chiama così Google Display Network, ok? E adesso richiamo Moreno perché vorrei che ci spiegasse a modo, visto che lui è il maestro di questa cosa, che cacchio è Google Display Network? Moreno, eccoti qua, ti rimetto in prima linea, ecco di qua. Ok. Allora, come dicevamo prima, intercettare la domanda latente, cioè le persone che sono in target, perché lì la parte difficile, le persone che sono in target stanno passando del tempo online. Se lo domandi a... Ho preso una discussione durante l'estate con i vari guru di Facebook, che è l'unico modo in cui si può, in realtà siamo divenuti alla certezza che in realtà anche guardando i numeri, giusto, ricordiamoli anche. Google al giorno raccoglie 100 milioni, ok? Dei quali quasi due terzi vengono dal Google Display Network, cioè esattamente da questo circuito, che è un circuito dove due milioni dei migliori siti al mondo hanno deciso di non amministrare in proprio la pubblicità al loro interno, per parlare dell'Italia, Corriere della Sera, Repubblica, Giallo Zafferano, il Meteo.it, cioè tutti i siti che hanno traffico e sono di qualità, in realtà affittano i loro spazi pubblicitari a Google che li riempie e li può riempire in due modi. Uno, dando un'interfaccia per, come dicevamo prima, creare, ricostruire il proprio cliente, quindi chi è il mio cliente potenziale, dove va, che lo vi frequenta, come spende, quali sono i siti che ha visitato. Faccio un esempio per farvi capire solo la potenza. Se volessi intercettare qualcuno che sta pianificando un viaggio, su Facebook, vabbè, c'è questa domanda latente, c'è questi interessi viaggi, eccetera, eccetera. Su Google posso scegliere chi ha visitato certi blog di viaggi, chi di solito soggiorna in certi tipi di strutture ricettive di un certo livello, chi di solito magari nel cellulare ha installato Uber, ok, invece di prendere il taxi, ok, chi di solito frequenta magari delle spa o degli hotel di un certo livello, posso anche beccare qualcuno che ha frequentato siti di viaggio e sta cercando anche dei motori, no, per capire quanto può costare il prezzo di un volo aereo. Quindi sto beccando qualcuno che sta decidendo di fare un viaggio. questa è la potenza che vi dà Google se la sapete utilizzare rispetto a quella degli interessi di Facebook. Poi tra l'altro tanti dicono ma Facebook intercetta per demografiche Google uguale e di più perché i trilioni di ricerche, no, facciamo vedere l'ultimo kick-off che fa al giorno sono all'ennesima cosa, cioè sono neanche comparabili al pubblico che può intercettare con Facebook e basta. Ma la demografica l'ha inventata Google, cioè vorrei che tu spiegassi sta cosa, cioè nel senso tutto quello che fa Facebook, Google l'ha inventato lui dieci anni prima meglio, più preciso con molti più dati. Esatto, perché ora uso un termine che secondo me in tanti conoscono, i banner pubblicitari, no, che questo più o meno ci allinea tutti, il primo circuito in realtà l'ha inventato Google e Facebook non ha, cioè non sa cosa cercano le persone esattamente. Magari può cercare di capire dove vanno ma chiunque di noi se vuole cercare un posto dove andare, dov'è che va? su Google Maps. Quindi in realtà la sa Google la storia di chi sei, dove vai, dove sei stato, cosa vai cercando, cosa hai cercato, quali siti frequenti, cioè vi conosce meglio lui di vostra moglie, vostro marito o la persona a voi più cara da questo punto di vista. Quindi questa è la potenza e con budget tra l'altro contenuti, perché noi dentro la Discovery c'è anche questo tipo di simulazione, quindi andiamo a ricostruire il potenziale cliente, quindi con un qualcosa come di solito nella media 15-20 euro al giorno siamo in grado di ottenere quasi 700-800 click su un annuncio. Ovviamente un conto è se io cerco qualcosa e clicco su quell'annuncio lì, sono in fase di ricerca, però anche se sono lì, che ne so, parlavamo oggi con uno studente, lui vende olio per esempio, essere nel sito di Giallo Zafferano in una ricetta dove c'è l'olio, nel momento in cui la persona sta cercando la ricetta è più intelligente che andare a cercare interesse olio su Facebook, cibo e compagnia. Questo è proprio un esempio per dirvela banale banale, però puoi scegliere anche posizionamenti, perché all'inizio gli dici questi sono i soldi, questo è il mio cliente, distribuiscimi tu, poi voi li vedete e mi ha scritto stamattina per ridere Riccardo Tecchio che mi diceva che lui l'ha lanciata, che ha fatto fantastico Google quindi ha capito se le sta gestendo da solo e è comparso in alcuni portali dove quando gli aveva chiamati lui direttamente per chiedergli la pubblicità gli aveva chiesto un boato di soldi, invece si ritrova all'interno di questi portali attraverso Google a centesimi, quindi è veramente la prateria verde perché la maggior parte dell'agenzia che oggi per esempio abbiamo fatto quattro mastermind, quattro su quattro l'agenzia gli aveva detto non si può fare, è troppo difficile, non ci sono persone, addirittura le avevano detto è troppo caro anche il display, non soltanto la prova clave, giusto per capire come siamo messi, però è per darvi un'idea della potenza di fuoco che ha. Io dico sempre pensate a Facebook come un caccia e a Google come la porta aerei che viene di caccia. Ok, quindi questa è la versione sintetica. Perfetto, grazie Moretti. A dopo. A dopo. Quindi in maniera ragazzi iper semplificata torniamo a noi. Quindi quando si parla di domanda latente il re è sempre Google nel circuito Google Display Network. Quindi la prima cosa che devo fare non è andare su Facebook, la prima cosa che devo fare anche per la domanda latente è imparare a utilizzare le campagne, il vero segreto dei soldi è qua dietro Google Display Network. Bene. Poi non è che non ci siano le altre cose, quindi a questo livello mano a mano ragazzi che faccio le cose e ho altri soldini da investire certamente dopo me ne vado sul circuito meta. Quindi Facebook, Instagram, non è che non le facciamo. Al solito ragazzi il circuito meta così come tutte le altre cose così come tutti i social c'è il modo di utilizzarlo a modello influencer cioè pubblico io le cose costantemente mi metto lì e faccio i balletti ok, non è questo di cui stiamo parlando cioè l'imprenditore non deve fare questa cosa cioè c'è il modo di usare i social da influencer e il modo di usare i social da imprenditore l'imprenditore deve fare le sponsorizzate sui social cioè vorrei capire questo quindi degli evergreen delle sponsorizzate con tutto quello che insomma Moreno ha appena spiegato quindi non è che vi dovete mettere lì a fare i balletti dovete promuovere quelle che poi sono le vostre landing page che porteranno la persona fuori e la porteranno a compiere delle azioni che saranno comprare da voi registrarsi chiedere un appuntamento chiedere che voi gli inviate dei materiali di marketing eccetera eccetera quindi non è che il circuito meta Facebook e Instagram non esistano non bisogna farsi gli altri che non siano importanti ma come vedete in realtà in ordine logico cronologico sono primo secondo terzo quarto sono al quinto posto delle cose da fare cioè prima avete dovuto mettere i soldini su tutte quelle altre cose che vi ho detto quando ve ne avanzano al quinto posto cominciate a lavorare su Facebook su Instagram eccetera eccetera in realtà il budget si divide già dall'inizio in maniera più intelligente però è per farvi capire almeno in ordine mentale della logica mentale che dovete utilizzare anche qui esiste ovviamente sia la ricerca diretta adesso non le ho ulteriormente suddivise ma questi strumenti quindi Google Display Network Facebook Instagram possono essere utilizzati per pescare direttamente ma il loro utilizzo più intelligente in realtà e che costa ancora meno e produce molto di più è quando ho preso i clienti diciamo dal livello sotto quindi da Google da YouTube dalla carta eccetera eccetera me li sono presi io faccio retargeting a queste persone cioè attraverso Instagram attraverso Facebook attraverso Google Display Network io li rinseguo e li rinseguo nuovamente con altri modelli di annunci che gli ricordano che hanno visto la mia pubblicità ma ancora non hanno completato l'azione gli faccio vedere delle testimonianze gli faccio vedere i testimoni gli faccio vedere i casi di successo sempre cercando di riportarli dentro finché non completano l'azione che io desidero che facciano chiaramente anche qui esiste il poterlo fare con la carta cioè quando ho acquisito un cliente lo posso acquisire con la carta e lo prendo ovviamente dentro con i dati eccetera eccetera ma posso inseguirlo non a caso noi diciamo le campagne di sales letter almeno tre invi non è che invio una sales o invio un paccone poi aspetto che accadano le cose che la madonna mi mandi i clienti ok? non è questo quindi questo ragazzi è il secondo livello della piramide il secondo livello della piramide il re rimane Google Display Network in realtà la carta ok? io l'ho messa in me perché voi siete tutti online se no sembrano vecchi ma la carta ok? è quella che funziona di più quando avete i dati di contatto e se continuate a mandarla funziona meglio che comparire nello specchiettino di Instagram delle persone ok? Facebook, Instagram Google Display Network e carta quando avete fatto questo ragazzi quindi avete questi due livelli capendo il fatto che abbiamo detto prima che ci sono ovviamente da metterci i telefonisti dietro il venditorio o la formula che voi avete per ricontattare questi clienti eccetera eccetera il grosso l'avete fatto il grosso l'avete fatto ok? poi vi faccio vedere l'ultima puntina a ciliegina della piramide che è composta da allora esiste per esempio Criteo che noi utilizziamo costantemente Criteo è diciamo quella piattaforma che vi permette di fare le sponsorizzate all'interno delle applicazioni quindi finire all'interno delle app degli smartphone dei vostri clienti e potete fare le sponsorizzate le targetizzate le app che loro utilizzano e gli potete comparire dentro quindi se c'è qualcuno che sta utilizzando faccio un esempio scemo un'app per contare le calorie o per misurare i suoi allenamenti potete comparirgli dentro con le vostre barrette i vostri integratori eccetera eccetera esattamente il concetto di Google Display cioè trovare i posti giusti per comparire in maniera intelligente avanti alle persone con le app tematiche ok? uno ha un'app che normalmente fa qualcosa se vende il suo spazio e Criteo quindi permette di inserirci la pubblicità voi potete comparirci all'interno e questo è molto buono ok? quindi anche questo è un Google Display tra virgolette dentro le app ok? Google non entra dentro le app chiaramente Criteo sì adesso ci sono tante cose che non sto dicendo che non dirò per esempio non parlerò dell'email marketing in questo caso perché lo do per scontato all'interno del processo quindi non vi dirò le email certo vanno usate costantemente non vi parlerò per esempio di LinkedIn perché purtroppo nemmeno nel B2B LinkedIn è un ottimo strumento è straordinario cioè come idea in nuce è straordinario soprattutto perché nel B2B perché ha un database che è veramente fantastico intelligente il problema è che di Microsoft non è che voglia criticare ma Microsoft qualunque cosa tocchi diventa merda e quindi le sponsorizzate non riesce a farle girare in maniera decente neanche se ti ammazzi costano un bot ma non è solo che costano un bot non girano cioè non funziona perché è una LinkedIn lato advertising purtroppo è un accrocchio quindi sono dei modi per utilizzarlo nel B2B in realtà in maniera intelligente che non significa mettersi lì e spammare dentro le caselle della posta delle persone salve non è nemmeno quel lavoro lì perché comunque spam è una natura di coglioni ok però in generale purtroppo quindi io lo utilizzerei molto di più ora non funziona ok se no se funzionasse tanto sentireste moltissima gente che dice come diventare ricco con LinkedIn e non c'è perché LinkedIn è un accrocchio che nemmeno i truffatori riescono a raccontarvi che ci si fanno i soldi quindi sarebbe straordinario ma no l'altro che sarebbe straordinario ma no è Twitter quindi Twitter non ve ne parlo non perché io non sappia che esiste Twitter è che in Italia nella media non si accende ok noi abbiamo provato a pixelarlo si dice in gergo tecnico cioè dargli tutti i dati dei nostri clienti il pubblico simile per vedere se me li trovi non riesce ad accendere le campagne a noi che abbiamo un'azienda B2B ok quindi figuratevi alla media di voi che clienti vogliate che possa trovare Twitter è veramente complicato quindi si può testare per vedere se si accende ma nella media ragazzi abbiamo provato non si accende mai in Italia funziona negli USA funziona per i giornalisti cioè sono delle categorie che lo utilizzano ma nella media diciamo le sponsorizzate io le vorrei fare non le vorrei dargli i soldi non li vuole prendere si dice in gergo tecnico non si accende cazzo non partono le campagne però da ultimo visto che siete tutti iper eccitati per questa cosa ve lo metto perché da ultimo come ciliegina sulla torta ah vi ho messo TikTok così siete contenti così respi ah c'è TikTok ok allora perché TikTok è come ultima ciliegina sulla torta perché perché non è necessario farlo nel senso che il pubblico di TikTok non è che abbia un pubblico esclusivo normalmente nella media cioè la gente che si trova su TikTok si trova anche già su Instagram ed è di più ancora in questo momento che si trova comunque ancora su Facebook le persone montare un po' più alto TikTok ha un target di normalmente per come è nato ragazzini persone molto giovane quindi se dovessi pubblicizzare quelle cose lo guarderei tra le prime cose da fare sicuramente comincia ci sono dei dati interessanti comincia anche lì le persone cominciano a spostarsi tra virgolette la metto così male da Instagram verso TikTok anche persone più adulte non a caso noi dopo tanto dopo mesi che provavamo in realtà anche qui quando io vi dico di non fare una cosa non è che io sono fideista è che invece che aprire un pannello buttarci dentro dei soldi e dire vai noi le app tra virgolette le pixeliamo gli forniamo dei dati per chiedergli hai del pubblico simile da darmi TikTok per noi che siamo un'azienda comunque grande comunque nel B2B eccetera eccetera non si è mai acceso nel corso di me da quando è uscito ragazzi che noi proviamo a farlo funzionare sempre in ottica di ci metto i soldi e rientro non li sputtano perché se volete fare TikTok potete fare quello che volete a bruciare i soldi ok a non bruciarli in realtà bisogna che TikTok si accenda cioè vi dia lui il via libera a noi ok solo per la nostra azienda per farvi capire il via libera è partito tipo due settimane fa anche qui magari se c'è Moreno ci spiega questa cosa un pochino nel dettaglio così capiamo perché non è che noi siamo contrari ma giusto per farvi capire il senso e quando ha senso aggiungere TikTok come ultima ciliegina ok di una torta che però esiste già chiaro allora di base in genere quando vogliamo capire qual è il momento giusto per salire a bordo di un nuovo circuito pubblicitario c'è una cosa sana da fare ciascun circuito pubblicitario perché giustamente vi invoglia a capire quando è il momento di spendere con loro vi fa installare un pezzettino di codice che si chiama pixel in termine tecnico sulle pagine del vostro sito internet qui chiunque qualunque medio tecnico lo sa fare però la cosa bella è che lo potete fare prima di partire con le campagne per cui se sul vostro sito sulla vostra landing ci portate traffico in altro modo se ci aggiungete il pixel come abbiamo fatto noi in questo caso che era lì da tempo il tiktok con l'idea di capire se gli utenti che passano dal vostro sito come questo pixel questo codicino gli rende indietro e tiktok capisce se quelli che visitano il vostro sito sono anche dentro la sua di piattaforma quindi nel momento in cui tu vedi che si verificano e che questo pixel ti permette di capire quegli utenti lì che fanno se viaggiano sul tuo sito se scaricano qualcosa eccetera eccetera quando vedi che sono un po' e quel numero ti risuona cioè ti dice ok su mille persone 300 iniziano a essere di tiktok allora dici fermi tutti fammi vedere perché la piattaforma ti dice anche che età hanno perché il problema iniziale di tiktok per quelli seri o per chi lavora a B2B insomma per aziende strutturate per chi lavora con i giovani può essere però era che aveva target molto giovane e in genere tutti cavalcano l'onda e ci sono solo i bambini come facebook quando è nato ci sono solo gli studenti universitari tutti sono nati con ci sono solo i giovani poi in realtà ci entrano anche gli adulti la cosa bella è che quella piattaforma senza aver speso un centesimo ancora ti dice di 1300 ce li abbiamo anche noi ti dice tiktok e hanno queste fasce di età ok e ti dà una demografica di base a quel punto tu decidi se ci sono quelli che ti piacciono come clienti e ripetisco ancora non hai speso un centesimo twitter che diceva frank prima uguale noi ce l'abbiamo installato il pezzettino di codice di twitter sono anni che sta là e non si può fare quello di google ovviamente si stra accende nella maggior parte dei casi e qual è il bello da questo punto di vista torno a quello che vi ha detto frank due secondi fa con la piattaforma del display network ci potete fare anche retargeting perché lo fanno tutti su google scusate lo fanno tutti solo su facebook mentre qual è l'effetto carino questi ragazzi che io raccontavo vendono la pasta fresca quindi li vedono perché pagano delle sponsorizzate poi le persone tornano su giallo zafferano piuttosto che il corriere piuttosto che la repubblica le persone rivedono il loro annuncio e dicono se questa è un'azienda che investe sul corriere sulla repubblica e su giallo zafferano sarà un'azienda strutturata in realtà lo vede solo chi prima ha visto le vostre pagine ma non lo sa quindi c'è anche questo effetto wow da azienda tutto questo grazie ai pixel i pixel vi dicono quando è il caso di investire cosa fanno le persone come sono fatte questa è la prima cosa prima di spendere soldi installate quei codici e state a vedere cosa vi dicono ok perfetto grazie Moreno quindi questo è il a dopo quindi questo ragazzi è il è il lavoro da fare quindi come vedete la nostra piramide ha questa forma e investire a un ordine logico quindi non vi potete sbagliare questa è come se fosse una lezione universitaria ok cioè nel senso è if then else ok e riparti da sotto ok cioè è ingegneria ok c'è un ordine logico cronologico per investire sulle varie piattaforme quindi non è che qualcuno è contrario a qualcosa è che se non ha senso e voi sentite solo la gente inseguita le mode eccetera eccetera cioè TikTok ci potevate investire i soldi da giorno uno e non c'era il vostro te i soldi se glieli dai lui te li prende come te li prende Facebook ok come te li prende Google te li prende chiunque ma voi dovete lavorare sui modi che vi stiamo spiegando che vi permettono di capire gli sto dando dei soldi per comparire davanti a della gente intelligente o sto semplicemente squancoracquando denaro perché ragazzi per me è quello lì ok l'altro aspetto di TikTok interessante per alcune persone quindi per alcuni target è che se io ci volessi lavorare tra virgolette modello realmente influencer dovrei produrre dei contenuti specifici eccetera eccetera quindi la maggior parte di voi non ha tempo per farlo ma è un social di infotainment quindi se non per tutte le aziende in realtà si presta alla produzione di contenuti ok quindi vi mettete lì perché su TikTok funziona l'addiction funziona la roba che sciocca funziona la roba emozionante funziona la roba molto creativa eccetera eccetera la maggior parte degli imprenditori non ce li ha con i contenuti è più roba da influencer chiaramente però su TikTok puoi usare come noi facciamo il circuito pubblicitario cioè puoi comparire con le sponsorizzate al solito quando si accende si dice in gergo tecnico e non ce li butti a cazzo perché la web agency ha detto di buttare cioè te lo dice lui in realtà per assurdo contro i suoi interessi se utilizzi bene i tool se vale la pena investirci o no e come vi ho detto da noi ragazzi noi facciamo solo così prima ma non mi piace buttare i soldi sono anni che stiamo dietro a Twitter e si accende né per noi né per i nostri studenti e TikTok si è acceso dopo mesi mesi due settimane fa sono partite le prime campagne due settimane fa ok vi dico cosa facciamo o si è acceso lui prima io i soldi non glieli do perché c'erano i ragazzini con le mutande adesso tre stronzi di imprenditori ogni mille ci sono e per quei tre stronzi ci compariamo davanti per l'amor del cielo ok però questo è il dato anche qui dovete dividere infotainment da la possibilità di ritargettizzare tra virgolette pubblico intelligente che può essere interessato al nostro prodotto al nostro servizio ok quindi anche qua dovete capire la differenza tra usarlo da imprenditore e usarlo da influencer ok bene detto questo questo è è una masterclass cioè nel senso quanto mi dovrei far pagare io per queste cose ma insomma vabbè tutto quello che vi ho detto è una bugia in realtà cioè nel senso non è vero niente di questa roba dici come no non è vero niente perché perché questo è l'approccio sbagliato al marketing nel senso che questa è a sua volta una non è la piramide delle campagne è la punta della piramide perché prima ancora in realtà a meno che io non stia partendo da zero se sto partendo da zero devo partire da qua ma se io ho un'azienda e non sto partendo da zero la piramide sotto si allarga cioè ci sono altre cose che io posso fare prima di dare dei soldi a google a youtube a facebook a meta a quello che è tiktok la carta eccetera eccetera che è adesso ve li faccio vedere ok allora quindi vedete la nostra piramide metodo merenda si ingrandisce perché in realtà si vede che c'è uno spazio sotto allora livello prima di cominciare a investire sulla domanda tra virgolette quindi clienti nuovi sconosciuti però domanda consapevole no quindi youtube google e carta c'è qualcosa prima sì certo prima di fare queste cose c'è una campagna che devo fare la campagna che devo fare prima è quella che si chiama gli unconverted leads cioè i clienti non convertiti chi sono i clienti non convertiti sono persone che hanno ricevuto il nostro marketing ok hanno visto le nostre campagne eccetera eccetera hanno ci hanno lasciato i dati magari ci abbiamo parlato sono venuti in negozio gli abbiamo fatto un preventivo qualunque cosa questa cosa voglia dire per noi non convertiti ci abbiamo parlato ma non hanno comprato e non vanno lasciati lì cioè voi li abbandonate lì ma queste persone vanno riprese e come possono essere riprese direttamente cioè le richiamo ok le richiamo io le faccio richiamare da un venditore se il venditore si è scognato e dice questi non compraranno mai li fate chiamare in split test da un altro venditore e vedete che questo venditore base 100 in realtà questi clienti per esempio li reattiva mentre fate questo gli potete mandare della carta per agevolare il lavoro del venditore potete pensare a un'offerta straordinaria per queste persone per tirarle dentro perché al primo giro non sono entrate potete utilizzare i circuiti come abbiamo detto prima no quindi tra google display eccetera eccetera meta tito quello che volete per ricomparirgli davanti con un po' di retargeting email eccetera eccetera il vostro obiettivo è ri tra virgolette attivarli per convertirli velocemente ok quindi prima di dare soldi necessariamente per l'acquisizione di nuovi clienti li avete già spesi non buttatevi c'è la campagna prima che si chiama clienti non convertiti prima ancora ancora più alla base c'è un'altra campagna da fare ancora più importante della campagna dei clienti non convertiti che è la campagna referral la campagna referral è la campagna più importante cioè nel senso sono i clienti che ci vengono inviati da clienti già attivi quindi abbiamo dei clienti che dovrebbero essere così motivati e soddisfatti da segnalarci degli altri clienti anche qui è il stesso lavoro ok cioè nel senso devo fare in mo c'ho scritto c'è il corso il passaparola fa schifo prendete c'è un libro intero il passaparola fa schifo su come si fanno le campagne per i referral partite da lì ok i referral li ho già cioè ho già dei clienti soddisfatti vorrei che mi segnalassero dei clienti non ho bisogno di andare su google su tiktok ho già dei clienti che se sono soddisfatti mi possono portare altri clienti perché voi ti parte la fregola di andare su tiktok se non hai la campagna referral accesa non c'è motivo ok quindi anche in questo caso gli strumenti sono i medesimi ancora prima dei referral ok prima dei referral ci sono i cosiddetti clienti fermi anche qui non ho bisogno di andare su google a cercare clienti se io avessi un database un minimo ordinato un crm mi accorgo che ho dei clienti che hanno comprato da me una o più volte e per tutta una serie troppo tempo che non ricomprano e si sono fermati oh li vuoi riattivare cioè li vuoi andare a trovare li vuoi chiamare vuoi mandargli una nuova offerta vuoi mandargli un nuovo paccone li vuoi riattivare la campagna clienti fermi non ho bisogno di andare a dar soldi alle multinazionali li ho già e se sono dentro il mio database dovrei semplicemente fare le campagne specifiche per riattivarli clienti fermi ok noi ai corsi di queste cose parliamo non è che parliamo di altre cose ancora prima la campagna più importante della nostra piramide in realtà è la campagna sui clienti attivi cioè chi sono i migliori clienti non quelli che trova Google non quelli che trova Facebook non quelli che trova TikTok sono i nostri già clienti che se invece che aspettare che comprino da soli quando gli pare a loro li ricontatto per aumentare la loro frequenza di acquisto per aumentare i loro volumi di acquisto prova a fare upselling ok delle cose che hanno già prova a vendergli il livello successivo prova a fare cross selling vendendo le altre cose funziona ok e quindi guadagno molto di più senza spendere un centesimo quindi questa è la piramide metodo merenda ragazzi questa è una lezione universitaria non avete bisogno questa è una lezione il marketing è questa roba qua se è una PMI ok clienti attivi clienti fermi referral unconverted leads ok youtube google carta ok circuito meta google display ancora carta criteo tiktok e nella media avete fatto tutto quello che potete e dovete fare queste sono le campagne ok quindi ve la ingrandisco un attimo giusto per farvela vedere ok ragazzi questa è la slide ok questo è quello che vi serve mi tolgo di mezzo ok ed è fatta così quindi tornando a noi ok eccoci qua allora abbiamo completato ragazzi la nostra lezione le priorità del marketing sono quelle che vi ho spiegato ok questo è quello che bisogna fare quindi richiamo il nostro amico Moreno eccolo dottore rieccolo aspetti che la rimetto in un formato più carino che questo qua ok ci andiamo meglio bene c'era qualche domanda a tema secondo te hai visto qualcosa che a tema è un misto tecnica sarebbe una puntata a parte perché giustamente però dobbiamo rispondere perché sennò si spaventa chi l'ha letta Luca Di Vincenzo giustamente ci fa presente che come la mettiamo con col fatto del non si possono passare i dati che i pixel passano i dati fuori dalla comunità europea eccetera eccetera ok metto questo che è l'inizio della domanda perché se qualcuno di voi l'avesse letto ora anche lui parla un po' tecnico lo scherms significa che la comunità europea ha detto che a livello di garanzia sulla privacy negli Stati Uniti non c'è la stessa forma di garanzia per i diritti cioè per i dati personali che c'è in Europa qual è la grossa differenza senza fare la lezione giudista e l'amorbarvi la differenza è che in Europa se un'autorità pubblica indaga su me o su Frank deve chiedere a un giudice per esempio se vogliono vedere da Google cosa abbiamo cercato dove siamo stati deve chiedere a un giudice posso avere accesso ai loro dati per motivo ABC negli Stati Uniti da post torri gemelle la sicurezza nazionale l'hanno messa al primo livello tra i diritti un po' c'è anche da capirlo e hanno detto che se un'agenzia governativa federale fa una richiesta direttamente a Google anche senza passare dal giudice Google gli deve dare i dati e questi dati li può dare anche di cittadini europei e siccome Google ha i server sparsi per il mondo dico Google come Facebook come chiunque perché poi mi fanno ridere perché si concentrano tutti lì allora parliamo di tutti i sistemi delle carte di credito parliamo di Microsoft parliamo di qualsiasi innovazione moderna e viene dall'altra parte dell'oceano e nei grossi dati stambiati quindi senza rivalisco a fare la lezione di diritto il mondo si divide in due parti per i diritti quelle disponibili e quelle indisponibili esempio il diritto alla salute in testa di tanti è un diritto disponibile e invece no perlomeno in Italia perché per legge voi un rene non lo potete vendere ok anche se è vostro non si può commerciare i diritti alla persona finché non rivoluzionano la Costituzione in realtà sono disponibili quindi i miei dati personali se io lo so prima posso decidere che mi sta bene anche che vengono gestiti fuori quindi tutto il nostro simpatico lavoro del mese di agosto quando è uscita sta cosa e che è venuta da quest'altra parte dell'oceano è aver aggiornato tutte le form dove è chiaro è obbligatorio che se ci conferisci dei dati quei dati se ne vanno fuori anche negli Stati Uniti perché tutti i CRM veri quelli che diceva Frank prima sono essenziali per capire i clienti attivi non attivi dove li ripesco eccetera eccetera nel grosso a oggi hanno server dall'altra parte dell'oceano non si può fare con zucchetti ok cioè quindi la grossa differenza è che ovviamente dall'altra parte dell'oceano i CRM parlano con le piattaforme pubblicitarie quindi il vantaggio grosso è che i miei clienti attivi io li posso seguire su Google su Facebook dove voglio quando ho acquisito i dati informandoli prima infatti da noi se guardate i nostri forum nella spunta di base c'è che o ci dai l'assenso perché siano gestiti fuori o non gli vogliamo i tuoi dati perché non li gestiamo soltanto fuori però te lo diciamo prima lo stesso vale se navigo i siti perché anche lì noi ci avevamo lavorato mesi però da noi quando entrate su ciascuno dei nostri siti o landing non si attiva neanche un pixel finché non cliccate sul banner che l'avete visto la prima volta visitate un sito dove date l'assenso pericurio e anche lì nella privacy policy c'è scritto questo quindi finché non rivoluzionano completamente la costituzione in realtà si può usare anche perché sarebbe tutto completamente fuori legge ancora non l'hanno fatto perché in realtà c'è questo piccolo problema e poi tra l'altro si stanno anche mettendo un po' d'accordo sui soldi come sempre perché comunque google e facebook fanno una bella fetta di fatturato qua microsoft fa una bella fetta di fatturato in europa apple uguale quindi in realtà troveranno un modo di mettersi d'accordo e pare che con l'amministrazione americana di adesso si è intavolata una trattativa per arrivare a far sì che comunque ci siano le garanzie che c'erano prima del fatto che le torri gemelle quindi quello staremo a vedere però oggi se acquisiamo bene i siti sono configurati bene questi sono due grossi se però si può fare sappiate che non il 99 il 100% dei vostri siti non è configurato in maniera corretta quindi abbiamo dei problemi però in realtà sapendo ok avendo competenze tecnico giuridiche eccetera eccetera si può assolutamente fare ok altre domande che c'erano altre domande a tema infine che sei laureato in legge queste cose non le so dire sono troppo ignorante c'è la terza media ma l'ho fatto studiare quindi l'ho fatto studiare questa guarda è l'unica che poteva essere a tema come interviene il venditore nel caso in cui una pagina di vendita di un prodotto cosmetico da qualche decina di euro ok cioè come fare intervenire il venditore questo tradotto in italiano vuol dire come si fa a passargli un contatto che sia puoi dire profilato quando lui dice cercare i keyword su Amazon per conoscere meglio la tua nicchia anche se non ci vendo tradotto in italiano questa è una roba strana ma io credo che Antonio voglia dir questo cioè della serie come faccio a capire uno quali keyword utilizzare se vedere quali sono i prodotti ricercati su Amazon può aiutare da questo punto di vista ok perché tanti lo fanno vedono quali sono i prodotti più ricercati su Amazon si fanno un'idea del potenziale cliente di quali sono gli interessi e sulla base di quello vanno a cercarsi le keyword però voglio dire se voi volete studiarvi i vostri profili quali sono cosa scrivono nei commenti delle schede di Amazon le persone per ricavarci delle keyword benissimo cioè è sicuramente una fonte perché Amazon anche lì diciamolo quando voi non avete deciso di comprare qualcosa i motori di ricerca sono Google e YouTube quando avete cercato qualcosa cioè avete deciso qualcosa andate a cercare su Amazon io non l'ho inserita perché ovviamente è un B2C specifico però è ovvio che è il motore di ricerca fondamentale per i prodotti B2C ci mancherebbe esatto quindi tradotto in italiano ciò che voleva dire Antonio è intelligente andare a cercarsi quali sono le cose più cercate cosa scrivono nei commenti nelle schede sì sì reverse engineering delle risposte certo dei commenti come no assolutamente sì ok poi ci sono tutta una serie di domande si fila troppo sul tecnico siamo a posto così dai ok va bene ragazzi ciao a tutti mi raccomando dateci dentro e ci vediamo al prossimo giro ok ciao ciao fermo dove credi di andare te ne stavi andando senza iscriverti al canale vero vedi di non farmi arrabbiare iscriviti subito e attiva la campanellina non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo giusto allora fai bravo iscriviti ora grazie a tutti